Nella scuola di Mario Lodi la lingua era fondamentale perché attraverso la discussione, il confronto, il capire, mettere insieme quello che le persone pensano, si costruiva cultura e si costruiva conoscenza. Nell'MCE questo cerchiamo di fare. Una scuola dell'ascolto e del dialogo che garantisce il diritto di parola e il diritto di espressione. Dopo aver scritto nel titolo Un grande maestro è un grande movimento abbiamo subito pensato che bisognava spiegare in che senso. Un grande maestro è un maestro che ascolta. Questa foto emblematica ci piace molto perché ci mostra un bambino che parla, è un maestro che è andato ad ascoltare, tace, ascolta, cerca di capire. A volte è difficile capire, a volte ci vuole uno sforzo da parte nostra per capire il mondo che i bambini ci comunicano, i bambini e le bambine attraverso le loro parole. Però è un punto di partenza importante, l'ascolto, il capire il loro mondo, capire cosa c'è dietro. Una maestra tra voi che ho conosciuto ieri sera mi diceva ogni giorno vado in una classe di 25 bambini e ogni bambino è un mondo, è un mondo.